Ciao da Avsim! Giorno dopo Juventus Inter 0-0, ma 1-2 in virtù del risultato dell'andata, Juventus in finale di Coppa Italia, ma cosa è successo a fine primo tempo e alla fine della partita? Che cosa ha detto Conte? Che cosa ha fatto Conte? Che cosa gli aveva detto Bonucci? Che cosa ha risposto Agnelli? Quanti di voi hanno passato la notte, o parte della notte, a cercare di decifrare il labiale di Andrea Agnelli mentre scendeva dalla tribuna, forse all'indirizzo di Antonio Conte? Quanti hanno enfatizzato le parole di Conte ai microfoni post partita? Ci vuole più rispetto per chi lavora? Bisogna dirle tutte le cose facendo riferimento, alludendo ad un trascorso, ad un precedente, nei minuti appunto prima della sua esternazione, del suo dito medio, della sua reazione a qualche cosa che lo aveva infastidito. Purtroppo una gara priva di emozioni significative a livello di occasioni da gol e quelle poche sono state a vantaggio della Juventus si è riempita di commenti solo relativi a questo. I social sono quasi esplosi per quanto riguarda Bonucci che non doveva permettersi di dire a Conte di avere rispetto dell'arbitro, pare che gli abbia detto questo nel corso del primo tempo. Così hanno riferito i giornalisti della Rai che erano lì a portocampo, ci fidiamo per carità, sperando che non lavorino come la regia che a un certo punto ha mandato con la schermata nera Var. Pensavo di avere un problema io, ma ovviamente no, non è così, sono i problemi della Rai che sono abbastanza frequenti e perché chiaramente, perché Bonucci non può dirlo, perché a parte che Bonucci è uno dei calciatori più odiati al mondo, ma in Italia, cioè ha talmente tanto odio in Italia che possiamo estendere questa sua posizione di odiato praticamente a tutto il mondo, cioè ne ha talmente tanti che valgono per tutto il mondo. Ma poi perché c'era quell'episodio in cui è andato testa a testa con Rizzoli e purtroppo ragazzi non possiamo farci nulla, i social sono questo, diffondono fake news e disinformazione, cioè ancora non avete capito che Bonucci quella volta non andò testa a testa con Rizzoli, ma che quello era un fotomontaggio, cioè ancora non avete capito che quello era un fotomontaggio, non ci fu nessun contatto tra la testa di Bonucci e quella di Rizzoli. Abbiamo provato, cioè quella stagione 2015-2016, capite, sono passati 5 anni, dopo 5 anni c'è ancora chi crede alle fesserie e agli asini che volano. Quindi sorvoliamo, poi ci può stare che uno dica Bonucci non deve permettersi di dire a Conte, però chi è che dovrebbe far capire a Conte che deve rispettare l'arbitro? Perché tra l'altro è stato molto polemico contro i confronti del direttore di gara fin dall'inizio della partita per quella munizione a Darmian, ma la munizione a Darmian era da cartellino arancione, l'intervento di Darmian a doppio piede nei confronti di Cristiano Ronaldo, anche se ero in leggero ritardo sulla palla, non era un intervento cattivo, però entri a piedi uniti, prendi la caviglia, il cartellino giallo è il minimo direi. Ci sta, fa parte del ruolo anche dell'allenatore, quello di sbraitare e di difendere i propri giocatori, però un po' di coerenza. E poi, che cosa significa ci vuole rispetto per chi lavora? Che cosa è più avuto dalle tribune? Può darsi che ci siano state delle frasi difficili da digerire, può darsi che ci siano stati degli attacchi, degli insulti, non lo so, forse non lo sapremo mai, perché una ricostruzione fedele e completa non potremmo averla, perché ci sarà solo la parola dell'uno contro l'altro, visto che appunto, a livello giornalistico, quel poco che ci hanno raccontato è quel poco che sono riusciti evidentemente a dedurre, a parte il labiale di Agnelli, su cui entravo tra un attimo, perché comunque volevo parlare anche di questo. Però, ecco, un altro piccolo episodio, sempre da social, questa è la moviola social. Lautaro, praticamente, fa lui fallo a momenti su Bernardeschi, perché Bernardeschi è fermo in opposizione ad un tiro, non mette la gamba. Allora, intanto, chiunque, interisti, anche giuventini, qualsiasi tifoso, smettetela, smettetela di alimentare le moviole con i fotogrammi. I fermo immagine non sono moviola, sono sempre, sempre fuorvianti, sempre. Anche quando vi danno ragione, è comunque fuorviante, anche quando rispettano la dinamica dell'accaduto, è comunque fuorviante. Quindi basta con questi fermo immagine. Non è possibile riprodurre il video perché è violazione di copyright? Non lo riproduciamo. Facciamo che la moviola la facciano le tv, oppure andiamo a rivedere la partita e ci facciamo un nostro convincimento, e magari la moviola la facciamo testuale nel descrivere l'intervento. Comunque, Lautaro si fa male da solo, praticamente, cioè va a sbattere lui contro il piede di Bernardeschi. Non c'è assolutamente rigore. Di cosa stiamo parlando? Purtroppo, sui social si dice, invece, il contrario. Ma parliamo allora di Agnelli. Però un piccolo passaggio ulteriore su Antonio Conte, poi parliamo anche delle parole di Pirlo, e facciamo anche qualche considerazione sulla tenuta di questa Juventus, perché c'è stata anche una partita, non ci sono stati solo questi screzzi a bordo campo. Conte ha fatto il dito medio, questo si è visto. Ecco, questa è l'unica cosa forse certa, perché le parole di Bonucci non le abbiamo ascoltate, sono state riportate. Quelle di Agnelli non si sa chi erano rivolte, tra l'altro, e che cosa effettivamente abbiamo detto. C'è una ricostruzione di un'offesa abbastanza colorita e abbastanza diretta a Conte e chiara, però, appunto, questo dito medio è stato rivolto da Conte alla panchina della Juventus e qualcuno riferisce che abbia anche proferito un insulto. Non si sa con chi ce l'avesse, difficilmente con Pirlo, con cui ha un ottimo rapporto, forse proprio con Bonucci, forse con qualcun altro dei suoi ex giocatori o comunque del suo ex ambiente, della sua ex squadra. Nervosetto Conte, questo lo sappiamo, però, ecco, finché ti nervosisci con l'arbitro per un'ammunizione, ci sta. Ma poi, quando fai queste cose, esageri. Quando fai queste cose, dimostri di avere un atteggiamento da perdente. Non dico che Conte sia un perdente, però uno che reagisce così non sa perdere. E chi non sa perdere è un perdente. E non merita neanche di vincere, quindi bene anche da questo punto di vista che lì non sia stata l'Inter a passare in finale, perché dal punto di vista nervoso l'abbiamo meritata noi. Poi ci possono essere delle ripercussioni, questo volevo aggiungere. Cioè, un gesto del genere può essere anche oggetto di sanzione successiva da parte del giudice sportivo. Mi pare evidente. Non è una cosa che puoi fare. Poi, vedremo, a me non interessa, tanto si parla della prossima Coppa Italia. Chissà se ci sarà Conte sulla pacchina dell'Inter l'anno prossimo. E comunque si parte dagli ottavi, quindi veramente non ci interessa. Non c'è chiaramente una possibilità di trasferire questo tipo di sanzioni al campionato. E lo sapete molto bene. Ma, ripeto, è soltanto per dire che ci potrebbero essere delle conseguenze. Non ci potrebbero essere invece conseguenze, perché è qualche cosa che è successo sugli spalti e non si sa bene a chi fosse rivolto, nei confronti di Andi Ragnelli. Però, lasciatemi dire che, cioè, Presidente, probabilmente avrai anche detto, come qualcuno dice, esattamente quello che tutti noi volevamo dire ad Antonio Conte per tutta una serie di trascorsi, per tutta una serie di situazioni. Però no, cioè, anche no. Perché poi ci riempiamo la bocca di stile Juve, e questo non è lo stile Juve, chiaramente. Sbroccare così non è stile Juve. Anche perché lo stesso Agnelli è uno che, per esempio, twitta pochissimo, fa due tweet all'anno. Ecco, perché mantenere tutto questo silenzio e tutta questa, anche, eleganza e questo distacco per poi farsi coinvolgere e trascinare in questo modo in occasioni simili. Gli dai anche adito, ecco, a delle discussioni e a delle critiche, quando qui l'unico ad essere criticato, fino agli insulti di Andi Ragnelli, era proprio Antonio Conte per quel dito medio. Perché poi Bonucci che gli dice che deve rispettare l'arbitro, cosa dice di male? Che se lo possa permettere o meno, secondo il popolo social, cosa dice di male? Dice una verità, bisogna rispettare le decisioni dell'arbitro. Comunque, sorvoliamo sul resto, Pirlo in conferenza stampa ha detto, io Conte, l'episodio non l'ho visto perché stavo rientrando negli espogliatoi e l'ho visto solo adesso per l'ingresso della conferenza stampa, quindi non mi pronuncio con il presidente, l'ho incontrato, ci siamo abbracciati per l'euforia e per la contentezza di aver raggiunto questo traguardo perché abbiamo vinto una grande partita, vinto ovviamente nei 180 minuti, contro un grande avversario, abbiamo conquistato l'accesso ad una finale, i ragazzi se lo meritano eccetera. Quindi Pirlo non ha assolutamente partecipato a questa polemica che però probabilmente terrà banco ancora per un po' di tempo con probabilmente una doppia morale che abbiamo già visto anche in altre occasioni perché a poter essere attaccato principalmente è l'allenatore dell'Inter e non l'allenatore o qualcun altro della Juventus già che, ripeto, gli insulti di Agnelli che a me non piacciono come tifoso della Juventus sono comunque venuti dopo un gesto che è tutt'altro che giustificabile e perdonabile. Ma, detto tutte queste cose, adesso parliamo anche un po' della partita. E partiamo dallo 0-0, il primo 0-0 della gestione Pirlo, il sesto clean sheet in poco meno di un mese, anzi praticamente in tre settimane. In queste tre settimane l'unico gol abbiamo preso proprio dall'Inter nella gara d'andata di Coppa Italia. Quindi, praticamente possiamo dire quasi sette clean sheet, diciamo sei perché sono stati sei, obiettivamente prendere un gol può essere anche determinato, ti può anche far perdere una partita ed è il dodicesimo in questa stagione, togliendo il 5-0 al Novara nell'unica amichevole. Quindi, dodici in stagione, sei in tre settimane. Chiaramente la Juve ha abbassato la sala cinesca, mi pare evidente. Questo dà grande motivazione all'ambiente, questo dà grande forza e soprattutto spaventa gli avversari perché adesso il Napoli, che cosa deve pensare in avvicinamento alla partita di sabato? Che segnare alla Juve è complicatissimo in questo periodo e lo dice al Napoli come lo dice anche al Porto per la prossima settimana. Sebbene non credo che il Porto se ne farà un grosso problema perché è una squadra aggressiva che, insomma, non credo che badi molto alla tenuta difensiva dell'avversario ma proverà a fare comunque il suo calcio. In ogni caso, è un ottimo obiettivo da visita per la Juventus e un pessimo avviso per gli avversari. La cosa interessante pure che ha detto Pirlo è l'elogio a Rabiot, a JTV. Ha detto che sono almeno tre partite che sta giocando ad alti livelli, siamo molto soddisfatti, soprattutto perché è stato magari criticato, non è stato abbastanza elogiato quando ha fatto delle buone partite ma è uno che lavora sempre bene. Sicuramente Rabiot ha fatto una buona partita perché non si è trattato tanto di impostare ma si è trattato di fare fase difensiva, l'ha fatta bene, gliene diamo merito. Per me, Rabiot, per essere tra virgolette nelle mie grazie ma più che altro per ricevere degli elogi veri deve ancora fare tanto perché ne ha fatte troppo brutte di partite, ha avuto un rendimento troppo deludente e soprattutto di scarsa qualità proprio a livello di proposta di calcio cioè nel senso di saper fare, di dimostrare di saper fare qualcosa nel campo. Ieri ha saputo fare una fase difensiva, ha contribuito bene ai posizionamenti, anche un po' alla costruzione sebbene non sia stata una manovra veloce, una manovra fluida, una manovra efficace. A tal proposito, vi ricordo che alle 18 ma in anteprima per gli abbonati esce Pirlo Tactics quindi l'analisi tattica che è molto, molto interessante per capire perché si è finiti 0-0 e quali erano le armi di Pirlo nei confronti di Conte e viceversa quindi vi rimando al video e vi raccomando a tal proposito di iscrivervi al canale attivando le notifiche e di abbonarvi al canale valutando i vantaggi tra cui quello di poter guardare alcuni video in anteprima. Ma cos'altro possiamo dire per quanto riguarda anche le parole di Pirlo che potete leggere sul mio nuovo blog avsim.video sempre link in descrizione la conferenza stampa integrale è stato sicuramente significativo l'elogio da parte di Pirlo nei confronti di tutta la squadra e del lavoro che è stato fatto del fatto che sono stati impiegati i giocatori in un certo modo a livello tattico e di questo ripeto parleremo nell'analisi tattica ma soprattutto dell'entusiasmo dell'impegno mentale del lavoro che viene fatto in allenamento anche per spiegare singolarmente ad alcuni giocatori cosa devono fare di diverso e quali sono gli errori già che c'è poco tempo per allenarsi a tutti gli effetti un lavoro mentale perché in campo devi essere al 100% c'è poco tempo appunto per la preparazione ma in generale dietro c'è una grande soddisfazione per quello che sta facendo adesso la Juventus con Pirlo ho proiettato in avanti perché a GTV gli hanno chiesto hai vinto la Supercoppa Italiana sei in finale di Coppa Italia primo nel girone di Champions e stai risalendo in campionato lui ha detto non guardiamo al passato la finale di Coppa Italia l'abbiamo conquistata ma ce la giocheremo a maggio la Supercoppa Italiana la dobbiamo dimenticare e quindi dobbiamo lavorare giorno per giorno per risalire per fare punti in campionato soprattutto e poi penseremo anche alla partita di Oporto quindi prima naturalmente c'è il Napoli dove dobbiamo assolutamente fare altri tre punti in generale credo che questa Juventus stia dando a noi tifosi delle buone soddisfazioni sia per i gol non presi sia per questa mentalità questo approccio in campo che sembra sempre giusto sembra che siamo sempre sul pezzo ci aspettiamo comunque una Juve che abbia una proposta di calcio un po' più appassionante un po' più avvincente e non tanto per lo spettacolo ma per anche la soddisfazione di vedere una Juve che si esprime ad alti livelli tecnico-tattici ma per questo genere di cose Juventus-Inter ritornosi in finale di Coppa Italia non era assolutamente il terreno giusto e quindi se mi sono lamentato lo sapete di Juventus-Roma 2-0 per l'approccio della Juventus non l'ho fatto non lo sto facendo e non lo farò assolutamente per questo Juventus-Inter 0-0 perché si è fatto esattamente quello che si doveva fare secondo me e secondo voi? buon dibattito allora nei commenti ditemi la vostra e grazie per l'attenzione ancora una volta vi chiedo di iscrivervi al canale attivando le notifiche per i prossimi video e mettete like a questo se vi è piaciuto e condividetelo con chi potrebbe essere interessato ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti